Qui, Parlamento. La proposta di legge della Lega, quindi nostra, dell'onorevole Bergamini, che riguarda il tema dell'agricoltura, quindi che punta a obbligare nella grande distribuzione, nel calcolo del prezzo con cui si compra la materia prima agricola a pagare agli agricoltori tutta una serie di costi che oggi non vengono considerati. Quindi questa è una cosa che va nella direzione auspicata dalle manifestazioni dei trattori e poi arriverà il decreto, se avremo tempo di iniziarlo comunque in calendario, e poi arriverà il decreto elezioni che arriverà in aula mercoledì con le votazioni e opererà nel resto della settimana. Inoltre ci saranno anche le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo questa settimana. E poi c'è un'audizione del Ministro Giorgetti al Copasir, prevista per domani, se non erro, giusto? Questo non lo so, essendo le riunioni del Copasir secretate, però certamente può essere, non ho idea. Allora, questo è il quadro della settimana. In primo piano stamattina sui quotidiani, siamo pur dentro la rassegna stampa, ci sono naturalmente le elezioni in Russia. A me ha colpito tra le varie cose un articolo, anzi un'intervista su Repubblica, di un sondaggista indipendente, Denis Volkov, istituto analisi indipendente Levada, il quale dice che i russi stanno comunque col leader. E queste proporzioni di voto per Putin, oltre l'80%, che per noi sembrano incredibili, coincidono con le nostre rilevazioni precedenti, cioè prima del voto. E lo dice un sondaggista indipendente che oggi è intervistato da Repubblica. Adesso io non voglio trarre niente di che da queste considerazioni, però ne trago una cosa, che comunque i russi sembrano compattamente dalla parte di Putin, anche quelli che hanno votato in Italia. E questo è un dato politico del quale tenere conto. A fronte di questo, che senso ha, diciamo, come fa Macron, dire dobbiamo fare la guerra, mandare i nostri soldati e entrare in armi anche noi contro la Russia? E' sensato, non so neanche, non considero la posizione papale della bandiera bianca, perché suona brutta, suona malissimo. Però, insomma, tanto per citare un altro russo, il che fare si impone qui, no? In qualche modo. Beh, allora, le parole di Macron sono assolutamente delle follie, che anzi, dal punto di vista, indeboliscono molto il fronte pro-Ucraina. Perché se passa l'idea che, diciamo, difendere il diritto degli ucraini di difendersi, voglio dire, mandare i soldati della Nato, portare la Nato in guerra con la Russia, si indebolisce chiaramente il fronte, perché poi chiaramente nessuno è d'accordo su questo, no? Infatti anche altri capi di Stato dei paesi europei e dei paesi Nato hanno preso le distanze dalle parole di Macron. E soprattutto, in vista del corso europeo, si parlerà di difesa comune, diciamo che crea anche qualche problema sul tema della difesa comune, perché se poi l'idea dell'esercito comune europeo è quello che, se il Macron di turno si sveglia, ci si va a fare la guerra con la Russia, insomma, qualche preoccupazione questo lo destra. Quindi, certamente, penso sia stato un autogol. Quello di Macron è un autogol per chi, insomma, punta a una maggiore coesione europea e o sul fronte della difesa ucraina. Sul Papa credo che sia altrettanto sbagliato quello che ha detto, però, insomma, parliamo di un'autorità in tutto caso religiosa, quindi non di un'autorità politica, e quindi diciamo che da quel punto di vista il Papa può dire quello che vuole, certamente con la valutazione politica non mi viene d'accordo, perché diversamente alzare bandiera bianca significa farsi invadere, perché l'Ucraina dovrebbe farsi invadere dalla Russia, che è tutto quello che l'infronto occidentale ha fatto fino ad oggi, proprio per cercare di arrivare a una trattativa da posizioni, insomma, in qualche modo di equilibrio sarebbe vanificata. Quindi, diciamo che mi sembra sensata anche la posizione lì. Per quanto riguarda il plebiscito su Putin, beh, sì, sicuramente l'opinione pubblica russa è dalla parte di Putin, in questo senso dubbio. Che nell'opinione pubblica russa ci sia questa idea imperiale, imperialista di Putin piaccia, è assolutamente no, per il resto la cultura è quella. I russi da sempre si sentono una grande potenza, si sentono un attore globale, non si sentono una potenza, diciamo, territoriale o locale, ma insomma hanno la mentalità dell'impero, quindi ci sta con una certa retorica, un certo tipo di atteggiamento piaccia. In tutt'ora stava anche detto che però, insomma, non essendo la Russia una democrazia compiuta, e di fatto essendoci solo Putin candidato, è anche più semplice avere il plebiscito. Ecco, quindi sicuramente c'è un sentimento a favore delle politiche di Putin, c'è anche da dire che chi distente finisce in carcere in Siberia, o si becca il caffè avvelenato, e diciamo che non esiste una vera opposizione, quindi sicuramente intercetta il consenso del popolo, c'è anche da dire che è un regime. Ecco, quindi dobbiamo tenere in considerazione tutto. Detto questo, per arrivare poi alla tua domanda, è chiaro che l'Ucraina aveva l'obiettivo di portare le forze militari su una situazione di stallo, cosa che è stata più o meno raggiunta da Putinarebbe iniziare poi a trattare, e anche perché l'Ucraina comincia ad avere grandi problemi anche a livello di personale, di persone da mandare in guerra, ma sta finendo gli uomini, e quindi prima o poi un tavolo di pace si dovrà imporre. Allora, questo sarà senz'altro un altro dei temi della politica internazionale di quest'anno, perché la vicenda non mi sembra che si possa pensare che si risolva a breve, e anche densa di sviluppi possibili, alcuni dei quali, come diceva, è anche tu prima preoccupanti. Se è lecito, diciamo, passare dai macro temi a quelli più ridotti, però insomma ci interessano, perché ciò che è vicino interessa sempre, la Basilicata. Ne parleremo più tardi facendo un piccolo focus con il collega Maurizio Bolognetti, giornalista, segretario dei Radicali Lucani, ma ti voglio chiedere subito che roba è questo campo largo. Adesso è facile fare ironia in questo momento, noi abbiamo fatto a nostro modo, Orazzi e Chiorazzi, qua il campo si allarga, ma è sufficiente per tenere dentro tutti quanti. Oltretutto qui c'è un dato politico che ti sottopongo, perché l'ho accolto un giornale di area, Il Tempo, che dice, attenzione, perché è nato il Renzusconi. Tutti dicono no, è tutta una roba locale, non ha una proiezione nazionale, però sta di fatto che Renzi e Calenda appoggiano il candidato del centrodestra, il presidente uscente Bardi. Ha un significato politico solo locale, come si dice, o no? Beh, allora, Renzi e Calenda hanno già, è già capitato che appoggiassero dei candidati di centrodestra, tendenzialmente li appoggiano quando sono candidati di Forza Italia, questo sì, o comunque civici, ci sono città in cui Renzi e Calenda sono andati con la sinistra, ci sono città in cui sono andati con il centrodestra, tendenzialmente andavano con la sinistra quando il candidato era della Lega, con i fratelli d'Italia, e andavano con il centrodestra quando era di Berlusconi, ora civico. E questo si vede anche sui regionali, perché appunto appoggeranno Bardi, che è di Forza Italia, in Basilicata, ad esempio anche Piemonte, dove il candidato è Cirio, c'è una sorta di patto di resistenza, per cui non faranno le liste con la sinistra e metteranno alcuni loro candidati nella lista civica del presidente Cirio, quindi che da parte loro ci sia un atteggiamento favorevole ad appoggiare i candidati di Forza Italia, è vero, quindi è una tendenza che non inizia in Basilicata, che c'è già da qualche anno. Per quanto riguarda il campo largo, si commenta da sé, nel senso che in questo weekend abbiamo visto in Basilicata la nomina di questo primario, di questo medico, la sua insaputa, questa roccambolesca rivolta di alcuni sindaci del PD, riunioni infinite, poi questo candidato che si ritira perché non poteva fare una campagna elettorale perché era molto impegnato in sala operatoria, insomma una cosa abbastanza esarmante, e tutto sempre per accontentare Ponte, insomma abbiamo un PD che insegue il Movimento 5 Stelle, che ha scelto di non guardare al campo moderato, al campo riformista, ma inseguire il PD 5 Stelle sulla sinistra radicale, sulla sinistra permettetemi un po' diciamo assistenzialista, ecco, quella della tradizione di cittadinanza, cioè il PD sta diventando quella roba lì, non più il partito diciamo che conosciamo anche noi al nord, di quegli amministratori, gli riformisti che per carità magari la pensano diversamente da noi su alcune cose, ma con cui si può ragionare, no? Dittimi come le infrastrutture, l'industria, cioè ora si stanno spostando sulle posizioni grilline, ecco. E nel weekend c'è anche un'altra presa di posizione proprio sul Piemonte che è la regione che voterà dopo la basificata, il PD finalmente ha trovato il candidato Gianna Pentenero. Gianna Pentenero a metà martedì. Ci vuoi fare tu un identikit politico visto che la tua regione la conosci bene della Pentenero che è un esponente di lungo corso di PC, PD, AS, PD, eccetera, no? Dopo sei mesi in cui i candidati devono essere Gribaudo e Valle, cioè diciamo anche due giovani, insomma, esperienza, ma due giovani alla fine si diceva la Pentenero che passa un po' come l'usato sicuro. Cioè il messaggio che viene dato, uno, è che non si sarà d'accordo con il 5 Stelle perché Gianna Pentenero attualmente è membro della giunta russua a Torino. Quindi questo, diciamo, che taglia tutte le possibilità di campo largo, ma già si era cambiato. Poi è arcinemica dell'Appendino, no? È arcinemica dell'Appendino, peraltro il sindaco russo è arcinemica dell'Appendino, poi a me ha fatto parte della giunta Chiamparino, ha fatto parte della giunta Bresso, quindi diciamo tutte giunte politiche contro cui 5 Stelle si è schiavato in maniera pesante. Lei è appunto l'esponente del PD di lungo corso, è sempre occupata di politiche sociali, viene da Dalti Massese, insomma, non è proprio di Torino città, ma è della provincia, è già candidata anche segretario regionale diciamo contro i renziali nei tempi, poi è perso il congresso regionale, però è sicuramente persona stimata, stimabile di lungo corso. Certo non è la novità, ecco, l'idea è una ritirata del PD per cercare un voto identitario sapendo di perdere, ecco, questo è il messaggio. Anche in Piemonte Renzi e Calenda dicono un pensierino su Cirio, ce lo facciamo, bisogna trovare poi uno strapuntino anche per loro? No, guarda, ma ce l'hanno già più che fatto, nel senso che Azione ha già detto l'Italia Viva non si capisce, cioè l'Italia Viva ha parole, dice di no, ma molti loro esponenti in realtà stanno appoggiando Cirio perché hanno capito che diranno sì, non si vince. Azione ha apertamente detto l'appoggiare a Cirio inserendo alcuni suoi candidati nella lista di Presidente, questo è quello che stanno facendo. Bene, ti chiedo un'altra cosa a proposito di politica, di linea politica, tu hai rilasciato un'intervista qualche giorno fa a Libero nella quale hai detto che prima delle europee sarebbe bene chiarirci sulla linea politica della Lega da spiegare alla gente, avere un posizionamento politico chiaro essere il partito che rappresenta i ceti produttivi contro i parassiti, contro diciamo le politiche parassitarie. Tu ritieni diciamo che si debba fare questo prima appunto del voto delle europee. In che sede? Come? Diciamo in che modo? Guarda, io ho detto questo anche perché parlando con il segretario Sardini so che c'è l'idea di fare, visto che l'ipotesi della domanda era fatta nel congresso, visto che so che le voci che erano girate su un congresso prima delle europee sono assolutamente infondate e più che un congresso molto probabilmente ci sarà appunto una o più assemblee programmatiche e secondo me è questo fondamentale farlo perché ritengo che insomma stiamo in un momento in cui forse presi dall'azione di governo e quindi dall'inseguire i problemi del giorno per giorno si è persa un po' la cornice politica e valoriale di riferimento della Lega sulla base del quale chiedere poi i voti alle europee o alle regionali perché insomma sappiamo bene che si possono fare tantissime cose nei ministeri tantissime cose in Parlamento ma poi alla fine la gente vota su un'idea più alta sull'emozione su un obiettivo certo le cose fatte sono importanti da raccontare perché dimostrano la concretezza però ci vuole diciamo una direzione politico valoriale in cui collocarsi su cui chiedere i voti secondo me è importante farlo perché in questo momento un po' di confusione cioè nel senso che a essere contemporaneamente il partito dell'autonomia del federalismo eccetera e magari qualcuno non capisce questo con alcune posizioni diciamo di estrema destra che a volte esprimiamo che diciamo sono proprio facenti con quella che è la nostra storia sul tema sull'europe di candidiamo o non candidiamo alcuni personaggi poi sono tutte cose che vanno chiarite per il bene della Lega ecco nell'interesse anche del segretario bene chiarissimo ultima questione proprio lapidaria perché siamo alle 9.14 secondo te come si risolve la vicenda degli spioni dello spionaggio presso la DNA l'antimafia guarda io penso che l'antimafia giustamente potrà seguire quella che è l'evoluzione dell'indagine a Perugia ed eventualmente avoccare a sé l'indagine perché diciamo si tratta di antimafia quindi parte da un'ipotesi di reato svoltosi all'interno dell'antimafia quindi l'antimafia ha la competenza bisognerà aspettare la fine dei sei mesi di indagini per capire come evolve detto ciò fatto quello credo che se non dovessero emergere dati ulteriori quindi dovessero essere limitato al funzionario della finanza e al PM di Perugia come diciamo mandanti dell'operazione credo che sia necessario adottarsi di strumenti per approfondire meglio la questione perché è evidente questo l'ha detto anche l'attuale vertice dell'antimafia che questo è un sistema purtroppo radicato che quindi non può far capo solo due persone tanto che anche dopo la rimozione del finanziere incriminato sono continuati gli accessi illegali quindi è chiaro che c'è un sistema per capire chi sono i mandanti che fine fanno queste informazioni e insomma tutto chi è che ha interesse dall'ordine e protegge chi fa certi tipi di operazioni quindi è una cosa che va approfondita lo abbiamo detto siamo anche disponibili a creare una commissione ad hoc però ora aspettiamo che l'antimafia finisca il suo lavoro vediamo quali saranno i risultati e poi decideremo come proseguire allora grazie Riccardo Molinari buon lavoro buona settimana grazie a voi un saluto a tutti qui Parlamento